buonasera a tutti ragazzi bentornati sul mio canale questa sera faccio un brevissimo video un brevissimo video per quanto riguarda l'iscrizione al canale perché ancora qualche mio amico mi è venuta a chiedere come come si può fare l'iscrizione allora ragazzi ora ve lo spiego allora l'iscrizione si può così purtroppo bisogna avere un account google non c'è niente da fare quindi bisogna fare subito in primis l'account google ma è molto facile insomma vi iscrivete a google ma non comporta niente e non comporta niente neanche l'iscrizione al canale cioè è completamente gratuito è completamente gratuito quindi non ci sono problemi poi che attivate la campanellina allora vi arrivano le notifiche c'è ogni qualvolta io però un nuovo video o una live o metterò una locandina per appunto dare informazione per quanto riguarda una live o altro allora vi arriverà la notifica se voi non attivate la campanellina non vi arriverà neanche la notifica quindi di conseguenza non vi dà nessun fastidio fare l'iscrizione mi raccomando ragazzi sostenete il canale per sostenere il canale non c'è niente da fare dovete fare l'iscrizione qualche l'iscrizione fate fare l'iscrizione anche ai vostri amici fate crescere il canale non comporta niente è completamente gratuito però sostenete il canale in questa maniera sostenete il canale e farete crescere il canale quando arriverò a mille iscritti ragazzi e quando ci arrivi vabbè festeggeremo e festeggeremo tutti insieme vabbè e quindi quindi niente vedete io non ho pubblicità quindi non monetizzo non ci guarda niente ma non è questo lo scopo non mi interessa tra lo scopo è quello di di venire qua e diciamo così ogni qual volta chissà gioca cioè fare una una così una un commento alla partita e poi fare dei live tutti insieme ecco poi eravamo tutti insieme e anche un sapere no quello sapete a me fa piacere il secondo abbiamo fatti di sé io anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti gabriele fabio ma luca tutti quelli che ci sono stati ragazzi mi fa sempre piacere commentare insieme nel senso io ora poi piano piano sto mettendo a posto vedete anche anche insomma il canale lo sto insomma ma aggiornando sistemando questo richiede tempo no volevo sapete chiede tempo io non è che ho tanto tempo a disposizione io fra poi a un partire quindi e rientro a fine settimana no come avevo già accennato quindi c'è io poco tempo c'è non è che posso quel quel poco tempo che ho cerco di dedicarlo cioè insomma a fare delle novità insomma a migliorare così diciamo il canale quindi ecco supportatemi aiutatemi chiedo questo aiuto ma non monetario ecco vi chiedo un sostegno un aiuto nel senso di iscrivere il canale e poi cresce il canale che poi insomma quale serviva mille iscritti youtube dalla possibilità di poter fare altre cose sul canale cioè quindi è importante e poi insomma è importante far crescere il cane perché e anche mettere i like ragazzi perché mettendo i like youtube fa girare il video in più punti ce lo mette in evidenza quindi iscrizione e la sembra sembra stupidata ma non è una stupidata che ha nel senso purtroppo per purtroppo youtube funziona così c'è nel senso per far crescere il canale servono iscrizioni e e appunto i live ragazzi io non non voglio non mi voglio appesantire non voglio appesantire oltre ora poi questa settimana quando rientrò ho fatto qua delle altre modifiche dovrebbe arrivarmi una scheda audio decente che questa fa schifo ora ho provato un altro microfono per vedere di riuscire insomma a farmi sentire meglio e poi mi arriverà un altro microfono nuovo che io verso nel canale perché io ci credo 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 nella nella nostra società credo nel pisa e quindi voglio voglio diciamo così qua per conoscere insomma la nostra squadra a livello ora non dico bello nazionale mi piacerebbe ma perché la nostra società se lo merita i tifosi se lo meritano soprattutto e ce lo meritiamo ce lo meritiamo un momento marco vabbè ragazzi grazie del sostegno ieri veramente mi avete fatto contento veramente contento e felice e vi ringrazio commentate sempre ragazzi perché il commento mi fa piacere vi fa piacere il vostro vostro parere e le vostre sensazioni fa piacere tutto e se avete delle non so da indicarmi magari qualcosa per migliorare per migliorare il canale ragazzi ci sono i commenti apposta commentate fatemelo presente perché io leggo tutto a leggo tutti e vi rispondo vedete io magari non mi rispondo subito ma appena ho la possibilità la prima cosa che faccio vi rispondo rispondo a tutti indipendentemente bene ragazzi grazie grazie dell'attenzione non vado oltre ricordatevi una cosa il pisa resta e tutto il resto passa ragazzi forza pisa sempre e comunque alla prossima